è certo buongiorno allora oggi siamo in quel di vicini al montello sotto il montello a bavaria o bavaria non so bene oggi andiamo a fare un bellissimo giro dentro il montello sperando non ci sia troppo fango però senti che l'arietà è fredda adesso che non farà temperature ottimali ok adesso facciamo un po di avvicinamento sullo sfatto 4 km e dopo vedremo i primi quanto abbiamo fatto 3 chilometri ma neanche dici ma dai due e mezzo di chilometri fatti per riscaldarsi solo che adesso comincia brutalmente tutti i su e giù ti vieni ad andar piano eh beh allora una cosa sicuramente panoramicamente dentro qua è favolosa poi se andare a destra penso qua e adesso entriamo esattamente nel percorso si speravo un po più soft veramente troppo caldo sì ciao anch'io che rampete eh porca vacca eh oggi è proprio distruggi gambe secondo me sto percorso è tutto su e tu e poi subito in salita che cacchio ecco volevi il bosco siamo fuori traccia si ma noi dobbiamo andare a sinistra si che cacchio mi voglio girare prima eh ma riusciamo? ah le intersechiamo lassù oh porca oh porca bene i nostri fuori programma eh eh si evviva i rovi siamo giusti? siamo giusti? wow guarda che colore che spettacolo che spettacolo bellissimo qua cacchio ne so cacchio ne so il red ok oh però bello è bello allora aspetta eh si si tutto dritto vai vai oh cazzo eh si si giù giù wow bello bello oh cazzo bello figliare in discesa che benessere quando la bici vada sola che benessere quando la bici vada sola riprendiamo un po' le montagne nevate quello ho scoperto che è il monte Cezeng aspetta qua ti pare che vada a sinistra? merda merda fermo bu niente fail eccola spang oddio c'è un gatto in mezzo al prato qua ciao gatto facciamo una piccola deviazione per andare a vedere la colonna del rato ok un piccolo obelisco ma non è proprio una colonna Rattorio Emanuele oddio grazie 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 ciao wow ma butti sim muówi e immagini è partito indietro, ma poco, ma lo senti, non si muove è normale l'acciuto viene via come un razzo ma cosa? non so qualsiasi roba penso a un bastone fatto così ma vi scattava? ma quella grossa, non fina riprendiamo Federico sofferente no, ti giuro, mi è asciutto no, ma forte, forte lì, mi sono fermato di colpo ti giuro, dovete sparare tutto un drap qua oddio, stai riprendendo? si buon pranzo ciao signor Danilo, i suoi olivi, guarda qua belli, precisi, dritti va che roba bianchera, è ok scantoio bene 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 ho scelto la via principale siamo di nuovo in salita si che cazzo no no va fa il culo sono da... no alla porta massa lungo guardate il momento no il ritmo guardate il momento guarda taglia l'avanti si vai 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 guida vai 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 bellissimo motoville va motoville va 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 è qua giù ancora a destra è qua giù ancora a destra oh cazzo oh 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 ah 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 che è è non so dove ah 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 oh uguale uguale scusa ah ma che storie che figata eh ah 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 Aspetta, tu filmi? Ma che figlio Sassi, sassi, sassi Sei qua, sta distante Forse non so come sia questo Aspetta, aspetta Che cazzo rovia Non so se ho fatto bene Oh, c'è qua, che... Merda, merda Che è vicino Ci sei? Bastina gli la do Eh no Merda, era meglio a destra Ma mi sai che abbiamo già fatto? Che figlio Che è un'acqua divertita Beh, questo sì Porca miseria Ennesimo errore Ennesima asola Vai vai Sta attento No, no, si vivello No, no, si vivello Fai lo, puoi farlo comunque Sì, toccato Non lo fai come salto, lo coppi È abbastanza Scalinata È abbastanza scalinata Faccio il terzo alto qua Ebbene Lasciamolo fare a chi A sinistra Sì Bellissimo Beh No, no, guarda, guarda Quella sighera è in piedi Quella sighera è una bella rampa Eh che cazzo ne so Aspetta un attimo Sì, ma aspetta un attimo Cambio batteria Rifiato E sto qua E voglio rifare al giro Ah è solo perché sono periodo in forma Sì Vabbè, gli altri anni mi tiravi il collo a te Quasi continuo a salire Dio santo Comunque non sono finite le salite E non te la dava Non c'è che si fa più onda Anche Allora Allora Ehi, 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 ehi Grande Ancora su Non devi un po' di maschia Eh, comincia ad accusare 920 metri di livello Bene No, ma gli hai fatti con calma Dai, vanta Stai e scendi, stai e scendi ma con calma Con fermati Allora, più calma Si, perché te non hai una misura Devi andare più piano Ciao E vai che dopo l'ennesima Qua Comunque Eh La traccia dava di là Però facciamo lo stesso questo che poi se li congiunge Ciao Ciao Ti raffitto con i pericolosi Eh? Urla quando è pericoloso Si, boh, insomma, pianti Sì Eh, bella ma Orcazza Ok Ok Aspetta, aspetta Dio santo, aspetta che ti riprendo Hai visto che figata? Vai, vai che ti riprendo No vaffagulo, corri Sì Basta No Non tentiamo la fortuna più di quello che è Però, eh, guarda che là Era facile No No Bene, dopo una interminabile salita Proviamo a fare Un sentiero Non segnato in traccia Ma che in realtà è in traccia Ormai siamo a un fuso Vabbè Ma zio, ma quanta salita c'è? Basta Basta Non rimposto più di far salita oggi Ennesimo sentierino Oh, che cannellone qua Oh.. Che canaloni qua oh oh ah 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 ok se ti sbaglia la devi venire per bus per via quelle baleale bello vabbè vedete mettiti l'anima in pace almeno ti ti metti più in pace si è così nuovo traverso oh dio signore bravo ma basta salite ma non è possibile e siamo ancora in discesa però belli 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 ah il coccane scusa sono andato un po' a lungo vuoi andare avanti vai 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 tranquillo un po' insomma eh ultimo tratto e ci ricongiungiamo e abbiamo finito vai vai no dai pensavo fosse salita ma in realtà dovrebbe essere poca roba eh Dio ma no no si ma per quanto poca a te non fa male le gambe? è un po' qui ecco a buon caracchio questo è l'ultimo sentiero di oggi 100 metri e siamo alla macchina è concluso anche questo giro è morto sono rieccoci rieccoci giro finito da un bel pezzo siamo andati a mangiare un'osteria ho mangiato bene soprattutto le polpettine con il suo al pomodoro fantastico stiamo tornando a casa bellissimo molto bello non avrei detto del dislivello non avrei detto insomma di aver fatto così tanto dislivello ne fa 1.200 praticamente esatto ma ci siamo divertiti davvero molto i trail sono veramente belli quelli del montello se non sei allenato ti tagliano un sacco le gambe tutte le risalite però è un parco giochi praticamente parco giochi della mountain bike e c'era gente comunque c'era un po' di gente che ci ronzolava anche i cacciatori e anche i cani che tagliano la strada esatto va bene alla prossima ciao ciao